Tutte le mattine la stessa storia, 3, 2, 1... Visto? Suona la sveglia e lui si gira dall'altra parte. Così tocca a me preparare la colazione. Uomini, tutti uguali. La colazione per me è sacra. Apro la mia porzione salva freschezza da quattro fette biscottate Grissinbom, le spallo con calma e pregusto l'attimo in cui... in cui lui arriverà e mi dirà... Grazie amore, che pensiero carino. Domani me ne prepari uno ai cereali. Sentito? Pensano che tutto giri intorno a loro. Lo yoga mi fa riflettere su cosa importa davvero nella vita. Le amiche e lo shopping. Scherzo. Deve sempre rovinare l'atmosfera. Mi piacciono i film romantici e mi piace piangere. E quando piango mi viene sempre fame. Invece a lui, come a tutti gli uomini, i film romantici fanno venire sonno. Correre gli fa venire sonno, guardare i film romantici gli fa venire sonno. Non è che questi uomini sono troppo pigri. Ora lo sveglio e glielo chiedo. Che infantile. Mi tiene il muso perché non sono andata a pesca con lui. Ho visto un paio di sandali favolosi e non potevo certo farmeli sfuggire. Stasera però gli faccio una sorpresa. Gli uomini basta prenderli per la gola. Gli preparo una cenetta romantica. Naturalmente non possono mancare i gongoli. Buoni questi al camut. Cominci senza di me? È proprio vero. Le donne vanno pazze per i fiori. E i gongoli rendono unica la serata. Griss in bone. Stuzzica l'appetito e la fantasia. Io mangio Yosoi fibre bifidus ogni mattina. Ha tutte le proprietà di Yosoi e in più il bifidus che favorisce l'equilibrio della flora intestinale. Yosoi Valsoia è disponibile bianco naturale e in tanti gusti frutta. Io ho detto sì a Valsoia. Ed ora un po' di esercizi muscolari. Estensioni laterali. Cerchiamo di identificare i muscoli dell'addome. Altra gamba. Fatica eh? Allungamenti in piedi. Direi che per ora niente male. Non piegarti in avanti. Cerca di rafforzare la gamba sinistra. Ok, lo farò. Al nostro incontro. Altri dieci minuti ed è cotta. Che romantico. Speriamo non sia così solo la prima volta. Ich liebe dich. Mi piace. Ma come parla? È tedesco, vuol dire ti amo. Te lo direi in tutte le lingue. E le sai tutte? No, però la Vodafone Station 2. Dai, cerchiamo su internet. Vedi cara, con la Vodafone Station 2 ho internet a casa e fuori in un'unica soluzione. È semplice, innovativa. Seducente. Aspetti qualcuno? La polizia, sono un latitante. Troppo, macio. Chiama subito l'800 190 190 o vai su Vodafone.it. Troppo forte Vodafone. Navighiamo ancora un po'. E io che faccio? Il pollo. Vodafone. Alle mie formelle oggi aggiungo yogurt e miele. Per avere dolcezza ed energia. Sono facili da dosare. Due formelle Vitabix forniscono tutta l'energia di cui abbiamo bisogno. E poi sono arricchite con ferro e vitamine del gruppo B. E se facessimo un po' di yoga? Cominciamo subito. Ok. Vai, vai. Salta, 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 salta. Puggetto, volante. Vai, voglio prenderlo io. Stai a vedere. Salvatemi. Adesso ti aiuto io. Oh, no, no. Dove sono io? Aiuto, aiuto. Sono solo. Sono solo. Io ho ventanato solo. Ho salvato, vada. Salvatemi. Oh, no. Mi abbiamo perso tutti. Ma siamo nelle schiappe. New Super Mario Bros. Wii. Solo su Nintendo Wii.